e ciao una grande notizia una grande notizia che devo condividervi perché ogni tanto è giusto dare belle notizie non sempre notizie tragiche anche se intorno a noi capitano cose che non dovrebbero capitare questa però è molto molto bella aspetta che siate collegati che l'algoritmo mi permetta di vedere i primi collegati attendiamo attendiamo intanto buon pomeriggio a tutti avete preso il caffè dopo pranzo minimo prendere il caffè caffè con zucchero di con zucchero non di canna con zucchero non raffinato senza zucchero sarebbe meglio ma con zucchero di scarafaggio riofilizzato questo è lo zucchero del 2023 no a parte le battute in questi giorni sto giocando molto su quello che sono i i cibi con gli insetti perché qua vogliono veramente veramente somministrarci cibo con gli insetti e quello che vorranno fare detto questo passiamo oltre passiamo oltre diamo una bella notizia non parliamo di insetti vari e di di malori stop all'obbligo vaccinale per chi per i militari e la decisione chi l'ha presa il governo usa il governo americano governo biden quindi ora cosa succederà ai soldati congedati che ci sono stati tanti congedati un po come i nostri medici e infermieri sospesi in italia andiamo a leggere questo articolo scritto in modo eccellente da tommaso su ilparagone.it tra le tante norme adottate dai singoli paesi durante la pandemia ascoltate ascoltate per fare cosa per di fatto combattere la diffusione di quello che conosciamo bene tutti una delle più contestate ora l'introduzione dell'obbligo 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 a somministrare le persone per alcune specifiche categorie di laboratori tra i quali ci sono i medici ci sono gli infermieri gli insegnanti e anche le forze dell'ordine una decisione che ha scatenato polemica a non finire col passare nei mesi è quella degli agenti sospesi della polizia sospesa carabinieri forze dell'ordine e sulla quale soltanto adesso finalmente si sta iniziando a svegliare il mondo con interventi con interventi importanti come in questo caso quello che è stato fatto negli stati uniti dal governo biden del governo biden proprio in queste ore ecco l'ora arrivare all'annuncio del pentagono che ha deciso di fare retromarcia per mettere fine all'ennesima ingiustizia continuiamo a leggere andiamo giù il segretario della difesa americano lloyd austin ha infatti annunciato attraverso una nota che l'obbligo vaccinale per i militari usa è stato eliminato fine close stop ok è importante fate like in questo caso pollicione pollicione like voglio vedere i vostri commenti datemi un parere perché è una cosa importante perché anche dall'altra parte dall'altra parte del mondo oltreoceano negli stati uniti stanno iniziando a capire e non è poco è come spiegato dall'imittante americana pbs si è infatti proceduto alla cancellazione del memorandum adottato il 24 agosto 2021 che obbligava i membri delle forze armate a sottoporsi all'inuculazione dei farmici che conosciamo benissimo che conosciamo super bene quindi stop all'obbligo per i militari stando ai dati rilasciati dal dipartimento della difesa a causa di questa oe imposizione sarebbero stati concedati ascoltate bene in questa in questi questi anni e mezzo questi due anni addirittura 8 mila soldati non è ancora chiaro se dopo la cancellazione dell'obbligo vaccinale però ci procederà a riintegro a riintegro di come come è stato fatto in italia per i medici sospesi e i nostri sanitari e infermieri se verranno reintegrati questi militari questi 8 mila militari ma perché hanno voluto fare questa hanno sospeso questa norma perché evidentemente i restanti militari hanno detto ma basta i don't want non lo voglio più fare basta potrebbe essere una motivazione logica il dubbio è sempre lecito la certezza in questo caso non è più un dubbio perché la certezza è che anche in america hanno capito che hanno sbagliato obbligare in questo caso i militari e quindi buona notizia buona notizia da condividere da commentare chi non ha fatto segue la pagina chi non ha commentato metta un commentino due commentini tre commentini esprimi un parere un bel mi piace cuore in questo caso un bel cuore un bel pollicione è necessario perché un'altra grande notizia che sta venendo dalla nostra parte dalla parte della verità e della libertà ciao a tutti con questo vi saluto e ciao da robostro robi giusti vi voglio bene vi voglio bene bella bella notizia